A voi telespettatori ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Super TV Oristano. In primo piano la cronaca. Un grande incendio ha colpito la notte scorsa il fienile di un'azienda fra Puzzuidu e San Veromilis ad andare a fuoco ben 50 rotoballe. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme. I carabinieri stanno indagando per comprendere le origini del ruovo. Nella giornata di ieri 11 settembre si è verificato un incendio in un'abitazione in via Umbria, dove probabilmente a causa di una pentola dimenticata sui fornelli ha preso fuoco la cucina della casa. Il ruovo ha colpito anche altri locali della casa. I vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Ancora cronaca. Un treno diretto a Oristano questo pomeriggio ha rischiato di deragliare. Poco dopo Uras il convoio ha effettuato una brusca frenata a causa della presenza di alcuni blocchetti in cemento sul binari. Un uomo di Oristano è stato condannato a un anno e sei mesi per il reato di maltrattamenti in famiglia. Sentiamo. Cristian Pinna, un uomo di 44 anni di Oristano, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Oristano per maltrattamenti in famiglia. L'uomo con precedenti penali relativi allo stesso reato, questa mattina è stato condannato ad un anno e sei mesi con provvedimento emesso dal giudice a seguito dell'udienza per direttissima. La denuncia è partita dalla compagna di Pinna che ieri 11 settembre, dopo una lite per futili motivi, sarebbe uscito di casa per poi rientrare in evidente stato di alterazione alcolica, maltrattando la donna e minacciando di morte lei e sua madre presente nell'abitazione. A seguito di ciò, impaurita, la donna si sarebbe rifugiata con la propria madre ed il figlio di soli 11 mesi presso un bar della vicina via Ugone III, da dove avrebbe chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli operatori, arrivati presso l'abitazione della coppia e comprese subito le dinamiche dell'evento, si sono recati nel bar dove poco dopo è sopraggiunto anche Pinna, che nonostante la presenza degli agenti avrebbe ripreso a inveire contro la donna, minacciandola di morte. Considerato il grave contenuto delle frasi minacciose e il comportamento aggressivo, l'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Condotto presso gli uffici della Questura, su disposizione del PM di turno, è stato trattenuto in custodia sino all'ora dell'udienza per direttissima. Pubblicato nella pagina della Garante per l'infanzia l'avviso pubblico per la selezione dei tutor volontari per minori stranieri non accompagnati. Il termine scade il 20 ottobre. Ora passiamo ad un altro argomento, ancora furti da parte di turisti in partenza dalla Sardegna. Stavolta non si tratta di sabbia, ma di 35 cardellini destinati al mercato nero. Sentiamo. Il turista è sempre il benvenuto in un'isola votata all'accoglienza e ricca di bellezze naturali qual è la Sardegna. L'importante è che egli non tenti di fare proprio un patrimonio paesaggistico portando a casa illecitamente originali souvenir. È quello che spesso accade con la sabbia di quarzo di Isarutas, ma pare che non siano solo i chichi bianchi a far gola al turista. Il nucleo investigativo del Servizio Ispettorato di Cagliari è intervenuto lunedì 10 settembre nello scalo di imbarco del porto di Cagliari, individuando e fermando un turista il quale trasportava nel bagagliaio del proprio mezzo una piccola gabbia contenente 35 cardellini, a vifauna di cui le convenzioni internazionali e le norme nazionali e regionali vietano cattura e detenzione. L'uomo, che era pronto a imbarcarsi sulla nave diretta a Napoli, ha fornito agli inquirenti diverse versioni per giustificare il possesso degli uccelli protetti, i quali però risultavano prelevati illegalmente nell'ambiente naturale. Pertanto l'individuo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione di fauna protetta e rischia una pena sino a un anno di reclusione e 2.500 euro di ammenda. I cardellini sono spesso commercializzati nel mercato clandestino sostenuto dalla forte domanda del collezionismo amatoriale, col risultato che il prezzo di un esemplare può raggiungere i 400 euro. Dunque il potenziale lucro dell'illecito interrotto dal corpo forestale risultava ben superiore ai 10.000 euro. Gli animali sequestrati, tutti in buone condizioni di salute, sono stati liberati dagli agenti forestali nel parco regionale di Molentargius. L'intervento eseguito dal corpo forestale rivela ancora una volta che la Sardegna è meta di collezionisti che catturano fauna selvatica per immetterla nel fiorente mercato nero. Così come i cittadini si impegnano per denunciare chi tenta di portare via la sabbia illegalmente, il corpo forestale e di vigilanza ambientale rivolge un appello perché segnalino al numero di emergenza ambientale 1515 ogni traffico di specie protetta perché tali illeciti costituiscono un grave danno per la biodiversità che caratterizza l'ambiente naturale della Sardegna. E ora passiamo alla sanità. Lunghe liste d'attesa per una visita specialistica. L'ex sindaco di Cabras Cristiano Carrus lancia un appello alla giunta regionale. Sentiamo. Basta scrivere sulla famosa ricetta rossa visita urgente e la situazione cambia. Ebbene sì, il sostantivo urgenza ha il suo peso. E' l'ultima e neanche tanto recente invenzione nel campo della creativa sanità italiana, una sorta di cerotto adatto per coprire la vera realtà dei fatti. Tra prestazioni sanitarie che diventano a pagamento e fuga di medici verso la pensione, la sanità pubblica sarda naviga in acque sempre più agitate. Per i semplici cittadini il disagio probabilmente maggiore è rappresentato dalle lunghissime liste d'attesa per prestazioni negli ospedali pubblici, che costringono i pazienti ad optare per una costosa prestazione privata, in modo da abbreviare i tempi. Sulla questione è intervenuto l'ex sindaco di Cabras, Cristiano Carrus. Tempo fa, quando lo sindaco ha dichiarato Carrus, scrisse una lettera all'assessore alla sanità Luigi Arru. Più che una lettera era un appello, affinché l'assessore intervenisse. Ancora oggi bisogna attendere mesi o addirittura anni per una risonanza o per un'altra visita. L'assessore e l'intera giunta, aggiunto Carrus, ha sempre parlato di immediati interventi sulla situazione, in primis l'abolizione delle liste. Un semplice cittadino cosa deve fare? Deve rinunciare una visita pubblica, deve attendere mesi per avere un risponso, deve purtroppo rivolgersi a un medico privato. Ciò non è più accettabile. L'ex primo cittadino cabrarese chiede un immediato intervento della giunta regionale Sarda. Giovedì 13 e venerdì 14 settembre vi sarà un convegno per sacerdote e catechisti nella diocesi di Aless Terralba, che verterà sul tema della catechesi. A dirigere i lavori il responsabile del settore per il catecumenato dell'Ufficio Catechistico Nazionale. E torniamo ad Oristano. I consiglieri di opposizione in Consiglio Comunale, Obinu, Sanne e Federico, hanno presentato un'interpellanza per lamentare le carenze del servizio dei parcheggi a pagamento della città. Sentiamo. Nuova interpellanza dei consiglieri di opposizione, Obinu, Sanne e Federico. Nel Mirino stavolta le carenze nel servizio dei parcheggi a pagamento, il cui appalto andrà in proroga per altri due anni all'azienda SIS. Interpellanza che segue le lamentere dei cittadini che ogni giorno soffriscono del servizio e che da tempo lamentano problemi anche dovuti alla mancata stampa del ticket dopo aver effettuato il pagamento. I consiglieri evidenziano intanto i problemi relativi alla nuova app in uso per il pagamento, che pare non accettare tutti i tipi di carta di credito esistenti, ma solo quelle del circuito Visa e Mastercard, ostacolando a tanti il rinnovo a distanza. Non solo, anche le colonnine da tempo non accettano le carte Bancomat, rendendo impossibile il saldo se non si hanno a disposizione le monete necessarie. Tasto dolente è poi quello relativo al tagliando di cortesia, una sorta di avviso che permetterebbe di effettuare il pagamento posticipato informando l'utente che il ticket è scaduto. Nel 2014 l'amministrazione Tendas aveva proposto tale modalità, che avrebbe evitato a tanti di ritrovare la multa sul parabrezza, senza poi portarla a compimento. Le critiche da parte di chi allora era all'opposizione furono tante, ma oggi, affermano i consiglieri, sembra che ancora il problema sia irrisolvibile. Restiamo sempre a Oristano. Giovedì 13 settembre in Piazza Eleonora si terrà l'inaugurazione del decimo campionato nazionale paralimpico di equitazione. Sfileranno per il centro città i tamburini e i trombettieri della Sartiglia. Ora passiamo a parlare di politica. Un partito democratico alla ricerca di un rilancio, quello che si appresta a presentarsi alle prossime elezioni regionali di febbraio. Sentiamo il punto di Paolo De Zoos. Un documento votato con tre soli astenuti, traccia in Sardegna, linee e strategie del PD, un aggiustamento di tiro reso necessario all'indomane del voto del 4 marzo scorso e delle successive elezioni amministrative. Acqua passata, ma per il PD la sconfitta è stata accocente ed ora si guarda al futuro alle regionali del prossimo febbraio. Tenendo fisso questo obiettivo, la direzione regionale, riunita nuovamente ad Oristano, si è incamminata nell'alveo di una strategia che prevede una sorta di generale chiamata alle armi, che passa attraverso la mobilitazione di sindaci, circoli, associazioni e altro che abbiano un fondamento organizzativo. Tutto questo nella speranza che si eviti la composizione di un'armata brancaleone, anche se la proposta politica appare forte ed è quella di andare oltre il recinto del centro-sinistra, una strategia complessiva attraverso una serie di incontri pubblici nelle quattro province sarde e in due conferenze politico-programmatiche. Torniamo ad Oristano. Proseguono in città e nelle frazioni i lavori per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade urbane. Vediamo. Vanno avanti in città e nelle frazioni i lavori per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade urbane. Già da qualche giorno gli operai sono entrati in azione a Silì per asfaltare via Adua e sistemare pozzette e caditoie delle strade limitrofe. Nei prossimi giorni proseguiranno in via Martiri del Congo e via Arborea. Oggi lavori al via, anche a Massama, mentre per il centro abitato di Donigala l'ente amministrativo ha concordato con l'ANAS un intervento su alcuni tratti della strada statale 292. I lavori sono quelli compresi nel progetto da 480 mila euro approvato a marzo dalla Giunta Comunale e andato in appalto all'inizio dell'estate, così dichiara in un comunicato l'assessore lavori pubblici Riccardo Meli. Si tratta di strade urbane che da anni necessitavano di essere asfaltate e le cui condizioni nei mesi scorsi sono notevolmente peggiorate a causa delle forti piogge e del maltempo che ha favorito la creazione di buche. Intanto l'assessorato è impegnato a completare un altro progetto da 500 mila euro per un'altra tranche di strade da bitumare. Il progetto esecutivo è alle fasi conclusive e a breve sarà mandato in appalto. Rimaniamo sempre a Ristano. La comunicazione e la relazione con il pubblico saranno il tema del corso di formazione organizzato dal servizio di psicologia dell'ATS oristanese. Sentiamo. La comunicazione è fondamentale per instaurare una buona relazione terapeutica. Un principio fondamentale è che non si può non comunicare. Ci sono momenti in cui siamo più concentrati sulle nostre azioni che non sul tipo di messaggio che queste stanno inviando, ma si comunica sempre. Questo sarà il tema centrale del corso di formazione organizzato dal servizio di psicologia dell'ATS di Oristano e rivolto agli operatori di front office dell'azienda per la tutela della salute della Sardegna. Due le edizioni che si terranno nelle sale della formazione dell'ospedale San Martino nei giorni 9 e 10 ottobre e 18 e 19 ottobre. L'obiettivo è quello di fornire agli operatori di front office che si trovano a contatto diretto con gli utenti strumenti per trasmettere in maniera puntuale, completa ed esaustiva le informazioni richieste dai cittadini e di migliorarne le capacità relazionali. Sia nella prima che nella seconda edizione saranno illustrati metodi, strumenti e tecniche per ottimizzare la comunicazione interna, quindi quella aziendale, ed esterna, ovvero quella verso gli utenti. Utilizzare il primo contatto affinché lo scambio di dati e informazioni sia chiaro, rapido e in modo che l'intervento di chi viene dopo sia efficiente. Ridurre i tempi d'attesa per fornire una risposta. Le iscrizioni dovranno pervenire all'ATS di Oristano entro il 14 settembre. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Io vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese. Vi ringrazio di essere stati con noi. Buon proseguimento con i nostri programmi.